Per la prima volta. Nell'introduzione al libro Verso alla Scintilla del Cenacolo K attraverso Marco a cura di VB, la guida psichica di questo gruppo parla a chi scrive, sembra per la prima volta nella storia della medianità, di un progetto spiritico che ha iniziato a dipanarsi in maniera organizzata grazie all'opera ispirata di Allan Kardec. Riportiamo questa comunicazione per intero perché crediamo che si possa considerare un manifesto del contatto con i piani superiori di esistenza. Ecco il testo. Più di un secolo è ormai trascorso da quando per la prima volta è stato sottoposto all'attenzione del vostro mondo il primo volume scritto da noi, lo chiamammo il libro degli spiriti. Da quella data a oggi molte delle cose che dicemmo sono state dagli stessi spiriti smentite, altre ampliate ed abbiamo cominciato attraverso vari medium sia pure con diversi punti di vista, a mostrarvi i vari aspetti di una fenomenologia che da un lato si estrinseca mediante l'ampia gamma delle manifestazioni fisiche, dall'altro si pone come una serie di insegnamenti di ordine mistico o filosofico. Da quel tempo a oggi la nostra struttura viene via più ampliandosi da entrambi i lati. Così se da una parte la fenomenologia fisica viene confermandosi e arricchendosi di nuove prospettive, dall'altra l'insegnamento viene dipanandosi e assumendo sempre più la veste di un sistema preso quest'ultimo termine nel senso meno centralizzante e cristallizzante possibile. Così vi è un programma generale in cui centinaia di entità svolgono la loro missione nel vostro mondo, ognuna delle quali vi fa conoscere ciò che esperisce, allo scopo di suscitare in voi quell'amore fraterno, quell'autocoscienza di cui le guide spirituali dell'umanità hanno sempre con varie forme teorizzato l'importanza e anzi dirò la stringente, schiacciante necessità per mutare ogni limitazione in conquista, ogni egoismo in vivida, cosciente partecipazione e più ancora in una sentita perché ritrovata identificazione con l'esistente. Tutti ormai nel loro quotidiano possono sentire la nostra presenza attraverso termini come seduta, entità, spirito guida, cose queste che quando il nostro progetto d'amore ebbe inizio erano per voi impensabili ma per noi presenti come ogni tempo. Per far sì che ogni uomo potesse venire a conoscenza di questo programma del cosiddetto al di là col vostro mondo, anche senza vivere di persona certe esperienze, abbiamo cominciato a pubblicare quanto da noi veniva detto e fatto, avvalendoci di volenterosi, i quali rendessero pratico ciò che era solo teoria. C'è ancora chi non ci vuole, è vero, ma tutti, anche chi così afferma, più o meno consapevolmente ci cercano avidamente nel loro intimo essere. Così, essendone certi, non abbiamo mancato felici a questo magico, intenso, fatale appuntamento d'amore con voi e quindi per voi, scritto da sempre, nell'eternità. E così, per far sì che ognuno trovasse ciò che la sua cultura, i suoi interessi, la sua coscienza lo spingevano a cercare, facemmo in modo che entità di diversa evoluzione comunicassero con voi. Così, colui che è per indole, più attratto da insegnamenti di tipo mistico, abbia ciò che desidera, chi è più attratto da quelli filosofico esoterici, li abbia, chi è interessato a medianità affettive, chi ha fenomeni fisici, chi all'insieme, ebbene, tutti abbiano la loro risposta, poiché noi, e per tutti che parliamo, e in tutti che agiamo. Il fatto che in questo progressivo avvicinamento del nostro mondo al vostro siano utilizzate entità di diversa evoluzione non deve far credere che in tutto il lavoro non vi sia unitarietà. Si è vero, conveniamo sul fatto che a livello dottrinale esistono differenze notevoli tra le affermazioni di un gruppo di entità e l'altro, e siamo consapevoli che a prima vista questo può far nascere perplessità in chi, ignaro di certe leggi, si accosta a noi. La spiegazione di questa apparente lacuna risiede principalmente in due importanti considerazioni. La prima è che se si va a confrontare questi apparenti contrasti ci si accorge abbastanza facilmente che sostanzialmente le varie entità esprimono lo stesso concetto da diversi punti di vista. L'altra è il fatto che prima di notare questi contrasti bisogna conoscere bene le varie dottrine e si noterà che il quid che le unisce non nelle parole che le manifestano, ma nella fiamma che arde in esse, nello spirito che le anima e le riempie. Non dunque nella veste è da ricercare la risposta a questo quesito, ma in ciò che essa ricopre. Così l'intima, indissolvibile unitarietà di questo grande progetto risiede in quello che è il nucleo centrale di ogni discorso veramente spiritico. E il suo nucleo suona in breve così «Cerca la verità in te stesso, poiché è in te che sono presenti tutti i mondi, compreso quello della verità. Se cerchi noi, e anche perché sei deluso da morali provenienti dall'esterno, e vuoi costruirti una tua morale che è l'unica a esserti veramente d'aiuto. Non lasciarti influenzare da altri, chiunque essi siano, non possono, non devono plagiarti. Noi stessi cerchiamo solo di suscitare le tue facoltà spirituali. Così, se vivi il tuo rapporto col fenomeno spiritico come un discepolo vive il messaggio di una qualunque organizzazione religiosa o filosofica, allora sappi, figlio nostro, che per te il nostro messaggio è pericoloso e ti esorto vivamente a guardartene. Sappi che per amore tutto è uno e perciò con amore agendo in amore evolverai te stesso e i tuoi simili. Convincitene e lo esperirai tu stesso». Nell'invisibile non esiste qualcuno o qualcosa che voglia farti del male, ma solo fratelli che ti amano, che ti annunciano un mondo migliore in cui tutti si ameranno e sentiranno di essersi in forza di quest'amore ritrovati al solo scopo di amare ancora di più e mai ne saranno delusi o stanchi. Ti annunciamo una nuova venuta del Cristo e del suo regno imperituro nel cuore degli uomini, anche nel tuo, sia pure quando avrai un poco più ampliata la tua coscienza. Ma tu non crogiolarti in questo annuncio messianico. Sappi che noi portiamo gioia, ma sappi pure che questa gioia deve essere preparata nell'oggi entro l'intimo tuo. I tempi sono vicini e, coscienti di questo, siamo qua per aiutarti nella battaglia contro l'unico demone esistente, il tuo egoismo. E intorno a questo nucleo che, crediamo, ogni libro realmente scritto da disincarnati, come anche questo, ruoti e trovi la sua precisa ragion d'essere. Così, come in un organismo pluricellulare trova a posto una cellula, questa nostra pubblicazione va veduta, crediamo, in rapporto all'intero progetto spiritico. E sosteniamo che quest'opera si possa, come tutte le altre, utilizzare come una chiave di meditazione, leggibile come un piccolo e speriamo facile passo, verso la scintilla, quella flato di assoluto, di divino, che è in ogni essere. Guida psichica.